Il Pescara cercherà naturalmente il primo successo del nuovo anno a Crotone, stadio Ezio Scida, un campo caldo per Antonomasia, domani inizio ore 21, sarà ancora 4-3-1-2 assente, senza dubbio del grosso per un problema alla caviglia, è stato recuperato Brugman, oggi si è allenato, stringerà i denti il capitano, ci sarà anche Mancuso Marras tra le linee alle spalle appunto di Mancuso e Monachello. Attenzione in difesa perché Gravion potrebbe giocare anche nel ruolo di terzino, l'ho fatto chiaramente intendere l'allenatore di Preganziol, Bepi Pilon, in conferenza stampa, tra poco lo ascolteremo, il dubbio è tra Gravion e Ciofani, nel cuore del reparto arretrato sicuro l'impiego dell'ex Scognamiglio al fianco di Campagnaro. A sinistra naturalmente Balzano, in mezzo a centrocampo, altra novità sostanziale, dal primo minuto Crecco non giocava titolare, dallo scorso 2 dicembre trasferta di Perugia, tra l'altro in un ruolo non proprio confacente alle sue caratteristiche, esterno alto del 4-3-3. Domani invece giocherà Mezzala a sinistra con Brugman, metodista e Memushai, Mezzala a destra. Per quanto riguarda il Crotone, la stessa pesante legata proprio a Rodien, fermato per un turno dal giudice sportivo. Tornando al Pescara, abbiamo visto uscire un po' affaticato Canutè, sembra in dubbio ma aspettiamo la lista ufficiale dei convocati ad opera dell'ufficio stampa della Pescara Calcio. Ed ora ascoltiamo Beppi Pilon. Faccio una domanda per il sistema di gioco, 4-3-1-2 oppure sta pensando anche alla difesa a tre? Può essere tutte e due le cose. Quindi c'è questa possibilità? Sì, vediamo, vediamo. Per me che si asvecchia un po' come il Crotone? C'è anche questa possibilità. Altrimenti dovrebbe fare una scelta, insomma, tenere fuori uno tra Gravion, Scognamiglio e Campagnaro non è facile. È una scelta molto difficile, se dovessi giocare a 4 dietro, lasciare fuori un giocatore così non è facile. Però allo stesso tempo devo fare delle scelte, poi giuste, sbagliate, lo vedremo a fine partita, così voi direte a fine partita tutto il resto. No, ma mister, non è polemica. Giusto per capire un po'. Non è mai essere polemica. Ecco, esatto. Ma io so già come funziona questo giochino. Nel senso che se le cose va bene è tutto stanzito. Se le cose va bene è perché non ha giocato quello, non ha giocato quell'altro. No, la domanda invece è duopo a questo punto. Vale la pena cambiare il sistema di gioco, visto che insomma il 4-3-1-2 sembra aver dato, no, aver sortito gli effetti sperati, anche se poi è sempre l'atteggiamento quello che conta. Sì, sì, l'atteggiamento quello che conta, vediamo un po', cercheremo di mettere in campo quello che gli possa dare maggior fastidio a loro. cercando di vedere. Adesso non è solo un problema di scelta, basta. Ci scegliere i giocatori, scegliere un modulo o l'altro, è tutto un problema di scelta. C'è un problema di scelta.